ed eccomi a Cogullo Tommaso Vino oggi 6 aprile 2024 da luco del marzo in bici Cogullo qua il primo di maggio come ogni anno ci sta la festa di Giserpente praticamente qua ci sarà una fila di 2 km di auto provengono da tutta la regione anche fuori provincia ecco le prime case di Cogullo anzi qui c'è la stazione previaria si guarda quanto è bella Cogullo dovrebbe essere sui 950 metri o 1000 metri di altezza comunque qui c'è la stazione previaria e qui si ah i carabinieri si trovano anche qui c'è la segnaletica si quindi qui c'è il centro abitato anche lì e io proseguo il mio percorso e piano piano si arriva a Cogullo grazie a tutti